benvenuti ragazzi in questo nuovo video oggi andremo ad aprire 19 dei o meglio andrò riscatare 19 dei 20 premi dalla brown stars championship che si è conclusa ieri hanno vinto gli humble quindi un team italiano allora 19 perché avevo già preso l'inizio dell'evento la reazione di spike ecco qui io partirei prima dai premi star normale e poi andiamo coi pin anzi prima prendiamo i pin poi il stand drop normale e poi andiamo con quelli leggendari con la classificata e alla fine l'overdrive quindi andiamo a prendere i pin prima se li trovo che questo ok abbiamo il primo più nella coppa che si scioglie questo è quello glicciato e poi basta ok poi andiamo ad aprire gli star drop normali e spero di trovare almeno la skin magari anche solo un mitico ok prima super raro no andiamo su loro mi fa ricominciare sempre da caldo di mettere sempre secondo raro ancora peggio terzo un altro raro scommetto che nel leggendario mi darà tipo qualcosa come mille monete ok quinto sempre raro dai una delusione sesto raro sta iniziando diventare pesante settimo raro ottavo super raro ok anche un epico neanche un epico questo credo sia il nono raro Ce ne mancano pochi Penso decimo Raro Undicesimo Raro Poi Cosa manca Di questo Super raro Per carità Mi servono le monete però Qua sotto Non c'è più niente Questa Non mi contano anche più Tanto è raro 5 robe mancano Mancano 2 star drop Normali E il massimo che ho trovato è super raro Mi sa che c'è qualche problema Ho parlato Ho parlato spero che ci sia qualcosa di Bello Ok non mi lamento Una skin super rara Di willow Che a me piace abbastanza Per l'unica Unica skin di willow Decente Vabbè poi uscirò con la demoniaca Questa credo che la preferirò comunque E poi abbiamo l'ultimo premio star normale Che è un super raro Allora C'è rimane l'overdrive Il classificato Il classificato Leggendari Io partirei dal classificato Che vi sono Non mi dera Praticamente niente Però Eh appunto E da due stagioni Che non mi escono Skin Poi lo direi Prendiamo l'overdrive Subito Nel leggendario Esce qualcosa di carino Ok L'overdrive Risorge Credo che ce ne siano Migliori E adesso Prendiamo Il leggendario L'ultimo Oddio C'è andata meglio prima Perché L'abilità stellare Nel leggendario Vabbè Quindi Non è andata benissimo Che abbiamo trovato Un leggendario E basta C'è il leggendario Che non era neanche Quello garantito Quindi Sono contento comunque Di questa skin Che comunque È super rara Però C'è anche il C'è anche l'icona Che non metterò Ovvero Comunque Le alternative Per Willow Erano questa Almeno adesso Che non comprerei Questa Preferisco la skin base E questa Mi piace molto Mi ricordo Volevo Comprare Il pass Quando In una vecchia Fare un video Magari Se riesco ad aprire Qualche Qualche star drop Ok Ciao 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 5 Grazie.